La Chiesa non è un'organizzazione che cerca adepti, un gruppo che segue la logica delle sue idee o uno strumento per noi, ma una madre che trasmette la vita ricevuta da Gesù. È stata un'esortazione all'unità e alla comunione quella di Papa Francesco agli aderenti al cammino neocatecumenale, ricevuti in 7000 in Aula Paolo VI, in occasione dell'invio di oltre 50 missio agentes in tutti i continenti. La Madre Chiesa, ha sottolineato il pontefice, è feconda quando imita l'amore misericordioso di Dio, senza cedere alle divisioni provocate dal diavolo. Chi annuncia l'amore del Vangelo non può che farlo, ha aggiunto con lo stesso stile, e chi ama non sta lontano ma va incontro senza essere attirato dalla mondanità. Dio ha detto la detesta. Nonostante le difficoltà di andare in altri paesi e incontrare altre culture, la via per evangelizzare come famiglie è quella della buona notizia che deve sempre tornare affinché la fede non diventi una dottrina fredda. Ogni carisma è una grazia di Dio per accrescere la comunione, ma il carisma può deteriorarsi quando ci si chiude o ci si vanta, quando si vuole distinguere dalle altre. Perciò bisogna custodirlo. Custodite il vostro carisma. Come? Seguendo la via maestra, l'unità umile e obbediente. Se c'è questa, lo Spirito Santo continua a operare come ha fatto in Maria, aperta, umile e obbediente. È sempre necessario vigilare sul carisma, purificando gli eventuali eccessi umani mediante la ricerca dell'unità con tutti e l'obbedienza alla Chiesa. Grazie. 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 Grazie.